benvenuti ancora su suonate le campane lo abbiamo già ripetuto diverse volte mese di maggio e il mese tradizionalmente dedicato dalla chiesa a onorare la vergine maria e anche oggi lo facciamo attraverso la voce di maria consigli e una cantiga ci dirà lei qualcosa di più riguardo a che cosa si intende per questo tipo di componimenti da dove arrivano e da quale epoca e anche da quale a quale personaggio storico sono particolarmente legate queste cantigas de santa maria prego ciao innanzitutto a tutti a te valte da puglio e le cantigas de santa maria sono una raccolta del tredicesimo secolo di alfonso decimo detto el savio cioè il saggio re spagnolo che ha regnato fino al 1284 e che aveva una grande devozione verso la vergine maria un po come in quell'epoca anche in seguito alla così predicazione all'azione di san bernardo di chiaravalle avveniva e inoltre in spagna in quel momento c'era anche un moltiplicarsi di pellegrinaggi a monserrat sopra barcellona piuttosto che a santiago di compostela ed ecco il motivo per cui queste cantigas sono lingua galiziana e non in castigliano che invece c'era la lingua ufficiale della spagna perché veniva ritenuta una lingua più dolce più adatta appunto anche alla composizione di testi musicati ed è una raccolta molto ampia sono 400 cantigas e un po sul modello del Miracle della Vierge di Gautier de Coency un monaco benedettino più o meno coevo raccontano miracoli attribuiti alla Vergine Maria inframmezzati da canti di lode non so nei Miracle se abbiamo in mente mavielle no che appunto un canto di lode e così pure nelle cantigas spesso ci sono questi canti di lode il canto che oggi vi propongo è invece proprio il racconto di un miracolo io ne eseguirò solo due strofe molto lunga ma è proprio il racconto di un fatto che avviene quando durante l'assedio di una torre saracena una donna appunto mora con il braccio sul bambino si trova sulla torre in mezzo a due merli la torre è stata incendiata quindi sta per crollare ma i cristiani sotto in questa immagine della donna col bambino in braccio riconoscono un po il modello della Vergine con il braccio Gesù bambino allora si mettono a pregare perché lei non si faccia nulla infatti la torre crolla ma loro atterrano dolcemente sul prato vengono presi dai cristiani ma si fanno battezzare proprio perché riconoscono questa inter questo intervento miracoloso della madonna e il ritornello della canzone dice proprio che la madonna ascolta sempre volentieri la preghiera di chi a lei si rivolge con fede e con amore e difende da ogni male chi si affida a lei la proposta è meravigliosa e mi sembra di ricordare che vivi con te anche un piccolo cimelio di questa realizzazione o sbaglio maria sì sì è questo è appunto una lp ancora degli anni 70 diciamo quando io per la prima volta ho incontrato questo tipo di musica e ne sono rimasta affascinata anche perché frequentavo una stagione musicale a milano che si chiamava musica e poesia a san maurizio e ricordo di avere anche ascoltato dal vivo queste cantighe e di esserne rimasta veramente molto colpita affascinata tanto da decidere poi di di studiarle e con walter la propongo spesso quando suoniamo insieme no abbiamo questo programma di canti alla madonna che si intitola ave maristella nella quale sempre trova posto anche questa cantica insieme a laudi canti gregoriani canti trobadorici e e altro grazie beh la proposta davvero affascina sia per il valore che per chi la fa sia sia perché ci sei di tu sia perché c'è walter che ti ha sostenuto e quindi credo che sia un meraviglioso modo per affrontare vivere insieme questo mese di maggio quindi grazie molte grazie a te a walter grazie a francesco lorenzi per il coordinamento tecnico e a giovanni assandri per il montaggio buona visione buon ascolto a tutti ora sono compiata da Deo e a Virgen del Grado e guardate mancorella o che gli è incommendato che queste due cose fanno molto complessamente ganare amore e grossa della sé devotamente se fanno come Deo e Nea sia apertamente pare se pare se a savertude sopra tutto non è coittato ora sono compiata da Deo e a Virgen del Grado e guardate mancorella o che gli è incommendato sono compiata da Deo e per ora sono mostrata sono compiata da Deo e per ora sono mostrata ora sono compiata da Deo e a Virgen del Grado e guardate mancorella o che gli è incommendato ora sono compiata da Deo e per ora sono compiata da Deo e per ora sono compiata Grazie a tutti